veniamo subito al protagonista di questo video che è la block notice agenda di New York can wait di cui vi lascio ovviamente il link sotto in infobox è un'agenda di cui ho già sfruttato tantissimo il setup dell'anno scorso della mia tanti refill sono stati presi dalla blog notice 2015 per il mio setup del 2016 di cui vi lascio per chi vuole vedere appunto come ho organizzato la mia agenda il link sempre in infobox ed è un'agenda creata per blogger in maniera molto completa in particolare quello che interessa a me adesso da inserire ex novo nella mia nuova agenda appunto per il nuovo anno è questa sezione dedicata alle review quello che mi interessa in particolare è vedere quale pagina del pdf è perché chiaramente è un file unico questo perché andremo ad utilizzare questo programma che si chiama pdfil programma che è veramente molto molto semplice che permette di fare un sacco di cose utili e interessanti per chi vuole crearsi dei refill in particolare quello che andiamo a fare adesso sarà questa voce qui split reorder image quindi andare a dividere le pagine del mio file unico di pdf mi si apre ovviamente la schermata dove devo andare a selezionare il file che voglio andare a suddividere dopodiché si va ad aprire questa schermata molto semplice dove ti dice vuoi dividere le pagine da quale a quale a me serve solo la pagina 5 del file della blog notice e quindi scriverò semplicemente da 5 a 5 gli do l'ok e me lo salvo quindi come preview ed eccola qua abbiamo l'unica pagina review che mi serviva e qualora io avessi bisogno di questo formato proposto potrei anche fermarmi qui siccome però io ho un formato personal di agenda ho bisogno di riadattare questo formato al mio quindi sempre utilizzando lo stesso programma vado questa volta a convert pdf to image quindi vado a convertire la mia pagina che ho salviato prima come file estrapolato in pdf delle review e la vado a convertire in un file immagine chiudo tutto quanto lascia un attimo da parte più di file vado invece ad aprirmi open office altro programmino gratuito scaricabile altro programmino molto semplice ed intuitivo e vado a prendermi il programma di disegno e la prima cosa che devo fare è cambiarmi l'orientamento della pagina quindi vado a semplicemente a formato pagina e me lo metto in orizzontale vado quindi a prendermi la mia immagine quindi inserisci immagine da file e vado a prendermi il mio jpeg del file review di prima a questo punto sulla colonna di destra io ho tutta una serie di comandi che mi gestiscono dimensione, larghezza, se voglio inserire testo e altre cose vado in fondo all'ultima voce dove posso stabilire e impostare posizione e dimensione dell'oggetto che io ho inserito e mi vado quindi a impostare i margini che inserisco come margine orizzontale e verticale del foglio 1 e 1 e poi nella riga sotto mi vado invece a impostare le dimensioni del foglio quindi quelle che servono a me per la mia misura personal per cui mi vado a impostare 9,5 di larghezza e 17,1 di altezza per questo tipo di refill io ho intenzione di fare almeno un paio di pagine in fronte retro quindi inserisco sempre lo stesso file cambiando chiaramente in questo caso il margine orizzontale perché li voglio affiancati e quindi metto sempre 1 come verticale ma metto questa volta 14 come margine orizzontale siccome poi questi file non hanno bordo di fatto gli vado a creare appunto il bordo intorno selezionando semplicemente la forma che c'è in alto il rettangolo metto riempimento di colore nessuno e mi ridò esattamente gli stessi valori di dimensione e di margine che mi sono impostata prima quindi all'inizio metterò 1 orizzontale, 1 verticale e poi 9,5 e 17,1 per quadrettare la prima immagine che ho fatto mentre per la seconda cambierò sempre il riferimento del margine orizzontale e metterò 14 devo fare a questo punto il retro per fare il retro devo impostare in maniera un po' diversa le immagini quindi innanzitutto mi copio e incollo la pagina che ho appena fatto di modo che ho già la struttura cambio però i riferimenti probabilmente ci sono modi molto più semplici e molto più veloci per fare un corretto fronte retro io ho trovato a suoni di prove diverse e sbagliate che ho fatto che quello che funziona per me come margini fronte retro buoni sono tenere appunto quelli iniziali 1 e 14 e tenere invece quelli della seconda pagina che costituirà il retro del mio file tenerli a 4 e 17 in questa maniera mi viene un perfetto fronte retro e mi permette di appunto stampare e forare tranquillamente i miei file senza avere sovrapposizioni o altro come dicevo ci sono magari mille altri modi però io così lo so fare così mi viene bene così riesco a farmi refill come voglio io quindi è un video questo fatto per chi magari come me ne capisce un po' meno di computer per quanto riguarda ovviamente la fase di stampa mi vado a selezionare le proprietà della mia stampante la mia stampa direttamente in fronte retro quindi devo semplicemente selezionargli di riflettere sul lato corto la stampa perché ho impostato la pagina come orizzontale dargli l'ok e di fatto fa tutto da sola si possono fare davvero tanti refili in questa maniera e io sono riuscita a personalizzare il più possibile tutto il mio setup del 2016 per cui per tutte voi che pensate di non essere in grado provate così che è veramente facile grazie a tutti